Il gol in campionato, il gol più bello della tua carriera al momento? Sì, diciamo di sì, insieme a quello che ho fatto a Crotone che è simile, però sicuramente uno dei primi. Ci provi tanti in allenamento a fare questo tipo di gol? Non solo io, anche altri compagni di squadra ci fermiamo spesso a fare questi dri al volo e poi magari quando capita la palla giusta provi anche a fare delle grobazie, non magari troppe, se no poi si blocca pure la schiena. La risposta che la Roma doveva dare al campionato dopo la prima sconfitta a Torino? Dopo la sconfitta a Torino volevamo subito riprenderci e penso che l'abbiamo fatto nel meno in modo possibile. Adesso l'obiettivo rimane il più su possibile? L'obiettivo rimane come inizio anno, senza volare né troppo alti né troppo bassi. Vogliamo entrare in Europa e possibilmente quella che conta, che è la Champions League. Girare a 44 punti c'è un pizzico di rammarico per qualche punto che si è perso per strada o grandissima soddisfazione? Secondo me c'è una grandissima soddisfazione. Poi come ho detto prima, se la Juve chiude a 108 punti saremmo lì a stringere la mano e fargli i complimenti per questo campionato pazzesco. Grazie.